buon pomeriggio a tutti ben ritrovati alla nostra sessione live siamo con il live 10 il focus del mercato in dieci minuti siete sul canale breaking trader con andrea di marco e ovviamente il nostro broker sponsor alb prima di cominciare ovviamente come al solito vi inserisco qui il nostro disclaimer per quanto riguarda la dichiarazione di non responsabilità ricordate che alb è una società autorizzata regolamentata per la malta financial services authority e tenendo in considerazione che alb crede che i suoi clienti debbano essere consapevoli dei rischi connessi all'esecuzione dei contratti nei mercati otc ricorda che i cfd sono strumenti complessi presentano un alto rischio di perdere soldi quindi è importante formarsi di informarsi prima di cominciare ad eseguire qualsiasi operazione di investimento in quanto il 76.37 per cento degli investitori non professionali perde denaro quando negozia questa particolare tipologia di prodotto vi ricordo che c'è il negative balance protection sui vari conti quindi non potete superare come perdita massima il valore del proprio conto potete scaricare una demo direttamente dalla home page di di alb alb.com slash it potete appunto fare prova una demo e essere contattati dai ragazzi del supporto trasferiamoci subito in piattaforma perché è tempo di stappare una bottiglia di spumante il dax finalmente è arrivato in zona 12.100 punti vedete in questo momento qui 12.133 punti che rappresenta il nostro primo livello di target price di medio lungo periodo del di questo anno 2019 insomma di questa prima parte del 2019 quindi dax in zona dei massimi futures del dax in zona dei massimi così come il futures dell's p500 che continua a spingere al rialzo 2.919 anche se è un rialzo piuttosto diciamo piuttosto ossigenato nel senso che comunque la federal reserve ad ogni modo va molto molto cauta su quello che è l'andamento dei mercati infatti ieri trump ha dichiarato che se non fosse per la fed gli indici sarebbero in particolare il dao sarebbe 5 10.000 punti al di sopra dell'attuale livello questa mattina c'è stato cos'è che ha fatto praticamente far volare il dax questa mattina eravamo live eravamo ospiti in una diretta effettivamente abbiamo avuto lo zev che è stato un valore molto 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 positivo 3.1 il sentiment dell'economia tedesca rispetto al forecast che era 0.8 e il valore precedente addirittura era meno 3.6 quindi il sentimento delle dei piccoli medi e grandi ovviamente imprenditori tedeschi ha fatto sì che la borsa il dax in particolare l'indice la borsa di francoforte ha avuto questo rialzo piuttosto importante piuttosto significativa ancora prima della della news infatti eravamo live intorno a nove e mezza la news è uscita poi alle ore undici e abbiamo avuto anche non farm per holes nella sterlina andiamo a dare un'occhiata eccola qui sterlina yen in questo momento qui continua in questa fase laterale non farm per holes che sono stati negativi perché perché abbiamo avuto una variazione nella richiesta di sussidi di disoccupazione di 28.000 unità quindi negativo rispetto al valore al forecast che era di 20.000 il valore precedente era di 26 e 7 mentre per quanto riguarda appunto i non farm per holes sono rimasti stabili a 3.5 sono ormai oltre tre mesi che i non farm per holes in gran bretagna rimangono su questa soglia qui quindi terzo mese consecutivo quindi questo cosa vuol dire vuol dire evidentemente che la sterlina ha sofferto oggi con lo yen poca volatilità per via del blocco brexit mentre qui lo vediamo a 15 minuti effettivamente su un asset più volatile in questi casi qui e ovviamente vi parlo del della sterlina con il dollaro americano quindi sul cable vedete qui l'ultima candela le ultime candele orari vedete che volatilità al ribasso soprattutto in quest'ultima ora in quest'ultima sessione andiamo avanti perché perché il cad questa mattina ci eravamo lasciati con un cad piuttosto che era che aveva messo un passo dentro la zona sell così è stato effettivamente perché adesso ha avuto un ribasso abbastanza interessante per la volatilità che che c'è nel forex di circa 23 pip ad ogni modo comunque è un eh è già un un inizio per quanto riguarda gli USD CAD si soffre sul neozelandese con il dollaro rimaniamo stabili sotto questa quota qui su intorno al 067 e 50 quindi nulla è cambiato mentre l'euro dollaro dopo il falso segnale quindi il primo falso approaching al rialzo verso il nostro obiettivo che era di 1 13 599 in questo momento è ritornato su 1 12 986 e non sembra in questo momento qui voler ehm spingere al rialzo Fuzzi Fuzzi di eh Londra vedete settemila quattrocento venticinque ha rotto la zona di massimi vi ricordo che sul Fuzzi di Londra avevamo fatto diversi trade obiettivi in questo momento settemila eh cinquecento quindi è ulteriore di settanta punti al rialzo per eh il Fuzzi di Londra come obiettivo eh andiamo a vedere ovviamente le materie prime perché il petrolio in questo momento è fermo a sessantatré e sessantatré vedete proprio sulla volatilità a livello daily occhio se perde il minimo di oggi il minimo di ieri eh qui eh esce fuori un gran bel trade al ribasso fino a zona sessanta mentre per quanto riguarda il gold stabile vicinissimo a livello di supporto 1279 in questo momento al ribasso in questo istante qui ovviamente zona abbastanza difficile per quanto riguarda il gold perché perché siamo in una zona caldissima io l'ho segnalata su questa eh area di volatilità tutta tutta gialla quindi tutta ehm questo rettangolo tutto giallo e eh vedete che in questo momento qui è vicinissimo alla proiezione di poter rompere il eh il supporto il supportone a 1276 e vi ricordo che eh questa settimana è una settimana piuttosto importante perché è una settimana dedicata soprattutto agli utili utili abbiamo visto oggi bank of america 070 su 076 per quanto riguarda le ps 23 billion rispetto a 23.2 per quanto riguarda i ricavi black rock positivo 6.61 su 6 e 12 335 billion su 333 quindi 2 su 2 per black rock ehm co america un altro grande big asset 2.08 su 1.93 8 e 44 su 8.54 quindi anche in questo caso qui fate attenzione le ps eh le ps di queste tre azioni tutte positive quindi learning per share sono tutti positivi qualcosina al di sotto rispetto ai ricavi però sono comunque ricavi vi ricordo che sono comunque utili eh batte le aspettative il colosso johnson e johnson 20.02 billion per quanto riguarda i ricavi su diciannove zero eh su diciannove e sessantadue e siamo in attesa di vedere l'oreal netflix e ibm e eh abbiamo andiamo a vedere anche la colossa sulla salute United Health 3.73 con rispetto ai 359 60.31 rispetto ai 59.66 quindi anche in questo caso qui due su due per ehm United Health tenete in considerazione che questi dati perché è importante seguirli sono importanti seguirli perché ovviamente quello che ci interessa è che se abbiamo questi risultati queste trimestrali positive il trend al rialzo continuerà quindi il trend al rialzo sugli indici in particolare su eh SP500 e ovviamente su eh su di riflesso ovviamente sul DAX con poi le trimestrali ehm con le trimestrali effettivamente ehm europee continueranno continueranno al rialzo quindi ehm importante notizia United Health la maggiore capitalizzata di oggi eh dopo Johnson & Johnson ehm società ovviamente di assistenza eh sanitaria gestita a scopo di lucro con sede Minnesota batte anche egli le eh proiezioni quindi occhio a queste eh a queste trimestrali che continuano ad essere proprio il fulcro del mercato quindi per il momento è tutto io vi do eh ovviamente un aggiornamento domani sempre con un live dieci domani è mercoledì diciassette attenzione domani alle ore diciotto abbiamo il live trading con Riccardo Guidi vi trovate direttamente in descrizione il link per registrarvi e accedere alla sessione gratuita che vi mette a disposizione ALB io vi ringrazio per essere state qui con me vi auguro una buona giornata e ovviamente un buon trading ciao e alla prossima